Secondo tempo, Lazzari si inventa questa prudezza che sorprende Cassano, Grosseto in vantaggio, nonostante un Grosseto senza punte, Pioli schiera una formazione con il tridente, un tridente poi guardate cosa fa Lazzari, sorprende ancora Cassano ma tira da oltre 50 metri, chissà come avrà visto la porta, comunque bravissimo Lazzari che si scatena anche...